Dal pensiero al design del gioiello e della moda, una tradizione tra scuola e territorio. Questo è il titolo del premio, giunto ormai alla sua quarta edizione, che prevede l'assegnazione di due borse di studio istituite dal Lions Club Arezzo Host e destinata agli alunni del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo, che si sono particolarmente distinti nelle sezioni di design del gioiello e della moda. Il nostro Lions Arezzo Host, da ormai due anni, ha il piacere e l'onore di premiare dei giovani che nella loro apprendimento scolastico esercitano le arti grafiche e speriamo che questa sia una spinta per tutta l'economia e soprattutto per i giovani, perché il Lion è a sostegno della gioventù e quindi questo è un punto del nostro obiettivo e dei nostri programmi. Le borse di studio di quest'anno sono state assegnate a Sofia Roncucci, neodiplomata dell'indirizzo design mode costume teatrale e a Martina Bonazza, che invece frequenta la classe terza dell'istituto design del gioiello e accessorio. Due indirizzi un po' specifici della nostra scuola che sono perfettamente aderenti alle necessità del territorio perché grazie appunto alla collaborazione come i Lions siamo in grado di mettere a frutto la creatività, la genialità, la freschezza dei nostri ragazzi che può essere colta dalle aziende del territorio. La moda è sempre stata qualcosa dentro di me che mi è piaciuto fin da subito e dopo la fine di questi cinque anni di studio ho voluto continuare e puntare sempre in alto. Sinceramente mi appassiona molto, proprio in generale, l'aspetto del design, il gioiello.